Ah, il clear rate è alto Quindi, dai, ce la posso fare Quello di prima ce l'aveva l'1% di clear rate Perché Ok Fedec 93, grande Vediamo A livello di prima era una cagata Una vita No, figo Questo qui sarebbe un gatto Pikachu Non lo so Io controllo Che ci sono power up e robe simili Fin qui Niente di strano E dentro Dai Ormai troppo tardi Ah, carino Dai Non è di Mi sa che mi sono inchiarpato Non credo di poterne uscire Ah, il lupo è quello lì Ok Sinistro-destra Io Se vuoi la freccia Mi fido Comunque è ben fatto, è divertente Sembra un classico Nintendo Ah, checkpoint Ah, è fatto davvero bene Complimenti Proprio Mi piace molto l'idea Sembra Non so Uno dei giochi del NES Oh, ghiaccio Vecchio stile Molto bello Mi piace pure il fatto di usare le palette di colori nero e blu per ogni parte del livello Quindi Molto carino Allora Qua devo saltare sul pau E evitare che Di schiattarci Ottimo Uh, bel salto Un bel salto serve qui La chiave c'è Adesso non so se prendere Blu o rosso O prendere il checkpoint Beh, in realtà Dal checkpoint poi Suppongo di poter cambiare Quindi io andrei sul rosso Hola, Gioele Ok Non so se ho fatto la scelta giusta Non so se devo prendere tutti e due tra l'altro Ok Il tamponino mi servirà sicuramente Perché va a entrare nella porta Immagino No Devo passare dall'altra parte Ok Rosso Ah, yeah Lo sai tu Ah, qua è Bella tosta Ok Shelmet Mi serve per passare al megafongo Per distruggere tutto questo qua È una mia supposizione Infatti qua non rompe niente Però questo qua dovrebbe aiutarmi a Sì E mo? Con questo che ci faccio? Non rompo niente Ah, però forse Non so benissimo se funziona Eh, lo sapevo Sì Ok Ok Allora, e c'è la fine Suppongo di dover sopravvivere Finché Uff Ma ci posso saltare? Questa parte mi mette Particolarmente In difficoltà Sì Penso sia un survival questa parte qui Ma non ne sono sicuro Sì Sì Lo era Bello Bello Complimenti Mi è piaciuto Non era troppo difficile Dai L'ho fatto senza crepare una volta Il che È un passo in avanti Grande Bel livello Ti metto pure un Un bel like Perché Molto bello Dai faccio un paio di partite in expert adesso Grazie per il livello Avevo bisogno perché ho fatto un livello schifosissimo prima Che mi ha consigliato un amico Ma non era di abilità Era tutto di Casini Cioè erano tutti i trick che devi sapere Super Mario Per poter superare molte delle zone E poi era pieno di troll Tutto un troll Completamente un troll Non ero in expert sono un po' cesso Quindi abbiate pazienza Sto facendo pratica Andiamo bene Adesso non so dove andare È tipo sti livelli troll Cioè Devo saltare Devo continuare Cioè Da Tanto ormai Non potrò mai sapere Qual è la verità Vado al casaccio Totalmente alla rinfusa Sto qui per mettere di Non si accende comunque il fuoco Sto qui per mettere Da questa parte Non riesco a proseguire Quindi io Proverei di qua Se avete qualche idea Datemela Perché io Sto a zero Fantastico Ma i livelli troll Non ce la posso fare Con i livelli troll Provo Sono Negato I livelli troll I livelli troll Forgotten levels Ok Ah Non è male Penso che sia fattibile Questo Che addirittura Mi fido del fatto Che non mi serveva Quella piramide No Suppongo che quello Mi sarebbe servito Suppongo che quello Mi sarebbe servito Faccio schifo Io sono sicuro Che questo qua Così lo devo fare Non so il perché Non mi chiedete Ma Secondo me mi servirà Poi questi mattoni Finti Ok No Sono sicuro Che mi sarebbe servito Sono sicuro Che mi sarebbe servito Qua mi serve il megafongo Perché lo sbaccare Uno Questo qua va bene uguale Oppo No 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 Dall'altra parte Dall'altra parte Ok Ma ora mi butto E muoio Eh Ecco dove mi serviva Il cuscetto Spero di spawni Ma Non Ci giuro Sicuramente Mi serve di là Ma come si va a fare Cinque volte lo stesso errore Per quello sbaglio Perché faccio Cinquanta volte lo stesso errore Devo fermarmi prima Ci vuole un sacco di Pazienza In questo gioco Molte volte uno salta Attenzione qua Ok Ok Così devo arrivare Adesso io A questo punto La schioppa S'hai dovuto uscire fuori S'hai dovuto lasciare il cuscio Uscire fuori Beh Inutile Questo mi serve Questo mi serve Questo potrebbe essermi utile Che cosa sto facendo Non lo so Posso tornare Vediamo se mi fa il reset Magari riesco a salvarmi la vita No Eh però Secondo me posso passare lo stesso Entriamo a renderlo Entriamo a renderlo Ok Puzzle solving Ok Vediamo se riesco a fare qualcosa Con cinque video Ci sono due Tre Vediamo Vediamo Ah ma questo qua Penso sia A stanze Sì Ogni stanze c'è una challenge Esco con una chiave Prendo un'altra chiave Challenge Quanto ci vuole Scusa Ah Nessuno l'ha mai finito Questo qui Fantasmi Spike Ma questo qua Ci vorrà una vita Finito Mi butterei sotto Ah e qui c'è il finale Ed è quasi crema Direi che è il caso Bene Non ho superato nemmeno il livello Fantastico Mi sa che sta parte la taglio Sul video Ma Mi butto qui qua Senza parole Sono assolutamente Senza parole La prima via Guarda Ormai Finisco tutte le video Qui Mi sono capito Dei livelli Bastardissimi Proprio E ma come crepo E niente Ripartiamo Ripartiamo Sì Mi è un expert Ok Ok La prima parte Come sempre I livelli giapponesi Adesso sarà un mega troll Senza nessuna indicazione Vabbè no Ah Devo fare così Ok Con molta calma Così Ok Oddio Oddio Qui andrei Oh Sarò stanco Ora Eh Voilà Sapevo io Io passare da sopra Se non spiace a nessuno Mi sa che spiace a tante persone Se passo da sopra Perché Non ce la faccio Arrivare Nell'altra parte Ok Ok Da sotto Una cosa Umanamente possibile Ma devo fare attenzione Perché Ok No Ma qua Rifigliamo molto Oddio Fuoco incrociato Quasi Non ne avevano fatti tutti Al volo Ovviamente Vi cremo Secondo run Andato a schifo Provo l'ultimo run Ok Qua è semplice Basta Semplicemente Fare così Eh Un bacio Non so E qua Fuh Che culo Ok Boh Piano eh Dice Z Quindi devo fare Una bella mossa Così Cioè posso pure Provera a fare Ah ok Sì 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 Mi salvo Oh Questo livello È umanamente Partibile Niente troll Niente cose impossibili Mi sembro Una cosa fantastica Lo posso fare Pure così Adesso mi serve Lo Yoshi Per accendere La bomba E che me ne faccio Mo E Lo vedo Piante Se mi dispiace Ma non ho capito A cosa mi serve Lo Yoshi Rosso Cioè posso Anche Abbrustire Questa pianta Ma poi Stavo appunto Dicendo che Era umanamente Possibile Ah A meno che Non si possa Entrare Nel tubo Nel tubo Nel tubo Vediamo Posso entrarci Oddio Non trovo Nessuna Vede uscita Idee Ragazzi Cioè potrei Provare a tornare Indietro Ma non so Ah Perché adesso Con gli Yoshi Sono più pesante Quindi Adesso Chi viene giù Ce l'abbiamo Fatta Funzione Ok Cosa Sarà la mia Chiave Dove Sarà la Chiave Bruciare Non la posso Bruciare Ci deve essere Una cavola Di chiave Ci deve essere Una chiave No Che Allora Que Che bello da saltare questa acqua perché la chiave non la trovo però dopo la voglio cercare con l'editor perché era un blocco nascosto sicuramente andiamo bene speedrun e Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sì, me la devo portare e mantenerla per tutta la cosa in modo che poi... Beh, almeno vediamo il livello, dai. Ah, queste qua sono le cose che mi piacciono in più. Sì, devo arrivare con la bomba fin qua. Non dovrebbe essere troppo difficile, vediamo se... Questa mi sembra più... Ah, pure! Ah, è molto increpato. Mmm, bra, qui devo soltanto... Soltarmi la fisca, ok. Non vuoi ricordare i livelli a memoria. Ok. Uno, dai. Uno lo posso superare. Ok, si fa più difficile la situazione. Vediamo che c'è avanti. Devo fare così, così... Ok. L'altro non lo devo prendere. Ok. Mi sembra abbastanza fattibile. Eh, però sbaglio qui ogni volta. Sai che... Esatto. Devo prenderlo già in velocità. Il che non è semplice. Ok, così. Vai. Ok, questa è altra è fatta. Ci sarà un altro punto. Ah, è tre video. L'hai dovuto prenderla, eh. Un livello superato. Grande. Riesco a due record della giornata sto weekend. Ah, la grande. Madonna. E Quet Night. Not easy. Standard. Allora, sapevo quei funghi stronzi. Spero di no. A me basta che sia una cosa... Non troppo... Non... Non... Impossibile. Una cosa abbastanza... Decente. C'è un livello. Un livello super mario. Non chiedo molto. Un livello di super mario. Niente di più, niente di meno. Niente che ci siano cose nascoste e robe, cioè... Semplice. Chiavi invisibili. Non so cosa devo fare qui. Oh, l'avevo visto. Ho detto, mo' ci faccia attenzione. Perché là... Allora, questo sì. Questo sì. Questo no. Questo sì. Mmm. Ottimo, altro checkpoint. Con Power Up. Se riesco a fottermi questa nuvoletta, sto a posto. Dimmi che la potessi... Sì, grande Mario. Mi farei un bel giro così, se non mi spiace. Voglio vedere cosa c'è avanti. Via, 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 via. Uh, due livelli. Attenzione, dopo sfighe infinite... Sfighe la luce alla fine del tunnel. Ho anche recuperato due vite. Una vita, almeno. Ecco. Lava death run. Vai. Short and sweet, standard. Non è uno speed run. Ah, come no? È uno speed run, come no? Beh, prima cazzata. È uno speed run. Ma ce la posso fare. E come? È uno speed run. Andarevo così a sparare di me. Vabbè. Oddio. Fuh. Ok. Ok. Io qua sto a prendere i Power Up, ma non so se mi... Se è una buona idea fermarsi a prendere i Power Up. Non credo sia proprio una buona idea. Ma li prendo lo stesso, perché voglio cercare di arrivare... Quanto più lontano possibile per capire... Cosa mi sto... Abbattendo. Quante cose brutte sto... Ah! Mi respinge questo qui. Devo farlo venire in qua. Vieni. Uhuhuhu. Ok. No. C'è spazio. C'è spazio. Basta aspettare che lui faccia il saltone. E io sono a posto. Fai il saltone. Fai il saltone. Fiscio. Fai il saltone come piace a te. Dai! No, mi sa che deve andare un po' soppianto, se non lo fai. In poche parole suga. 3. 3. 3 livelli. Grazie per il follow Christian TRL. Ho visto soltanto adesso. Grazie mille. 3 livelli. Facciamo il botto. Sono razzista con i giapponesi. Rishgolaf. Tutti i Koopa. Tutti. Sembra una cazzata, ma io... Mi immagino un sacco di troll su questo livello. Ma tanti di quei troll. Eh, che andiamo bene. Ma sì, vai! Allora, devo finire questo qua. Parichess. Ok, quindi da qualche parte si arriva. Un fungo. Ma come esco di qua? Ci ho provato. Ci ho provato e ho fallito. Occhi e croce. Ah, quasi. Vabbè. Mi ha provato il salto. L'unico problema è star qui con le bombe, perché devo fare il saltino qui per arrivare. Devo quindi utilizzare Yoshi per fare il volettino e poi saltare via. Uno, due. Sarebbe che sono Yoshi, però. E che? E dove sono le altre? Ho fatto la stessa se ho fatto prima, e mo? Ho fatto la stessa. Nada così Bene